Buongiorno, io vengo ad Anzio, tramite internet ho conosciuto questo studio dentistico, vengo qui per mia moglie che doveva fare l'intervento di plantologia, infatti proprio in questo momento sta effettuando le operazioni, mi sono trovato bene, mi sono stato accorto bene sia per la sistemazione per dormire, che per il pranzo e il cena, quindi sono molto soddisfatto per questa accoglienza e per tutti i testo, grazie